Allora, Cortina Metraggio, oggi, questa sera l'inaugurazione, che succede? Succede che inauguriamo le 22, inauguriamo con la novità di quest'anno la sezione dedicata ai backstage e proprio con un film girato interamente a Cortina, vacanze di Natale a Cortina, di Neri Parenti, Neri Parenti arriverà domani perché non ha voluto togliere l'attenzione al pubblico che verrà a vederlo e a chi ha collaborato al film, quindi proprio il backstage dedicato ai cortinesi che ci hanno lavorato. E poi otto cortometraggi molto belli della sezione Corti Comedi e inoltre i vecchi caroselli che non devono mai mancare a Cortina Metraggio. Torniamo bambini come una volta e non andiamo a nanna dopo il carosello. Appuntamento dove e a che ora? Al Cinema Eden alle ore 22 questa sera, poi le prossime giornate, quindi mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 18 e la seconda proiezione alle ore 21. Tutto a titolo totalmente gratuito perché la cultura deve essere regalata a tutti quanti.